Adesso facciamo un gioco, vota e risposta, vabbè? Pizza o pasta? Pizza Vincere la Champions o il Mondiale? Mondiale Espresso, con zucchero o senza zucchero? Zucchero Sì? Milan o Inter? Inter Svogliatelle o Babà? Pogliatelle Messi o Ronaldo? Messi Blue Jays o Raptors? Raptor Perché non si offendono gli altri Anche io Drake o Clementino? Clementino Anche se è Drake, però Clementino è che poi siamo amici Proveresti mai la pizza con l'ananas? No, mai Mai canadese? Lo so, non vi offendete, però sono napoletano e preferisco la pizza classica Il miglior stadio in cui hai giocato? Bernabelle Chi sono i tre giocatori più forti con cui hai giocato? Ho giocato a Cavani, Higuaín e Hamzy Chi è stato il portiere più difficile su cui segnare? Donnarumma Troppo alto Qual è stato il miglior difensore con cui hai mai giocato? Il miglior difensore? Ho giocato contro tanti Tra quello... Chiellini Fastidioso Hai incontrato Lebron Hai incontrato Adam Sandler Chi altro vuoi incontrare a Toronto? No, tra un po' c'è la settimana del cinema e spero di incontrare anche altri attori Quale allenatore ha avuto il maggiore impatto sulla tua carriera? Da piccolo, diciamo, quando ero più giovane ho fatto esperienze in Serie B Poi, crescendo, sono stati tutti importanti per me, però quello che ho espresso il miglior insigne è stato Cosarri Per ultimo, guarderai la Serie A in Canada e dove pensi che finirà il Napoli in classifica? Guarderò sicuramente tutte le partite del Napoli perché sono un tifosissimo del Napoli e spero che vincano lo scudetto Perfetto, grazie mille Lorenzo, in bocca al lupo questa stagione Grazie mille Grazie mille